Sono passati nove lunghi anni dalla chiusura del santuario di Maria Santissima D'Alemanna. Nove lunghi anni nei quali però i fedeli non hanno mai mancato di far sentire la propria presenza pregando e lasciando fiori di fronte a quel cancello che impediva l'accesso al santuario. Ieri finalmente, grazie all'impegno della diocesi e del comitato per la riapertura, il santuario di Maria D'Alemanna ha riaperto i battenti ai fedeli e lo ha fatto in un periodo molto particolare, quando mancano pochissimi giorni alla festa dedicata alla Madonna, che quest'anno sarà inevitabilmente diversa a causa delle restrizioni anti-covid. Abbiamo finito questi lavori in tempo, in due mesi e mezzo abbiamo fatto un miracolo perché oltre alle nostre spese ma c'è stata una gara di solidarietà di privati, di aziende, di operai. Si è rinnovato il miracolo che in tutti i secoli è successo, cioè i cittadini collaborano a rifare il santuario e poi ricorre pure l'ottocentesimo anniversario del culto dell'Alemanna, cioè l'arrivo nel 1220 dei cavaletti autonici su questa collina, non ci troviamo oggi noi, prima ancora che Eraclea Terranova fosse fondata da Federico II. Per il comitato sì, è un momento di felicità, ma la cosa più importante l'abbiamo fatta sia in maniera fisica con l'abbattimento delle mura, dei cangelli, cioè ridare il santuario alla città, nella città, per la città. E questo è stato l'obiettivo principale, ridare il santuario alla città. Un segnale dunque doppiamente importante per una città devota al culto mariano. L'immagine che dobbiamo portarci sempre per questo santuario, per noi gelesi, è proprio questa casa dove c'è questa mamma che ci attende tutti per darci una parola di consolazione, una parola di pace, un consiglio, così come appunto facciamo anche noi quando ci rivolgiamo ai nostri genitori. C'è sempre una parola buona da parte della nostra mamma. Ebbene, per noi gelesi è questo il luogo, è questa la casa e dunque siamo tutti invitati e la Madonna ci attende tutti. Ieri tantissima gente si è riunita nel piazzale antistante al santuario per assistere alla celebrazione ufficiata dal Vescovo di Piazza Armerina, Don Rosario Gisana, alla presenza delle autorità civili e militari. Prima della celebrazione un concerto di musica mariana con il coro Laudate Dominum di Bagheria. Da oggi dunque i gelesi potranno tornare a pregare sul luogo in cui, secondo la tradizione, venne rinvenuta l'icona di Maria D'Alemanna, un sito di particolare interesse che potrebbe essere utile anche al rilancio di un territorio, come sottolinea Monsignor Rosario Gisana, annunciando anche importanti interventi per la Chiesa Salesiana. Si valorizza un territorio, un territorio purtroppo lasciato un po' così al degrado, per tante ragioni. Adesso qui non si tratta di andare a capire le colpevolezze che sottostanno, però si comincia ed è soltanto l'inizio, perché credo si sappia che da qui a breve partiremo anche con un progetto per la Chiesa di San Domenico.